Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. In A1 resta a coda per lavori un'uscita a Firenze Sud per chi proviene da Bologna. Regolare il traffico altrove. Per la cantieristica, sempre in A1 per consentire lavori propedeutici all'installazione delle barriere antirumore, la notte di venerdì 17 febbraio dalle 22 alle 6 sarà chiusa l'uscita di Firenze Sud per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di Firenze in pruneta. Siamo alla FIPILI per lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Segnaliamo la chiusura della carreggiata tra lo svincolo di Cascina e il Bibio Firenze-Livorno verso Firenze. Stanotte 15 febbraio dalle 22 alle 6. Ci vogliamo salutarci per il traffico aereo e il volo Firenze-Roma delle 11.40. Quest'oggi è cancellato. Comerci in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Per ora è tutto, buon viaggio. Per ora è tutto, buon viaggio.